Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft per la serie Cosa succede se, e oggi ragazzuoli, siamo in un mondo super piatti perché è un episodio effettivamente molto figo Che si concentrerà appunto su questi animaletti qua che spawnano sempre nei mondi super piatti Ovvero gli slime Danger, 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 danger Perché guardate è una roba molto molto figa e particolare A livelli, vabbè ovviamente livelli bassissimi come al solito Ma fidatevi che ci rivarrete, no praticamente voi magari lo conosceranno questa cosa Ma vi dico che secondo me è figa un botto Come al solito no, se noi facciamo slash summon Andiamo a summonare dei vari, spawnare dei vari, delle varie bestiacce Aspettate che mi copio le tilde perché non riesco a farle, mi ricordo come cazzo si fanno con la tessera Perché, ok, già ne lo grazie, control v, tilde 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 Ehm, no, che cazzo sammo? Non gli devo dare lo slime Eh, se no è amazing Slime Ok, perfetto, lui dispone uno slime a suo piacimento, ok? Di grandezza variabile che va dal più piccolo Che è quello appunto, più piccolo che potete conoscere Che è ovviamente, eccolo qua, questo qui E' il più grande che è leggermente più grande di questo E' un size che potrà essere Perché c'è un parametro che si chiama size appunto Che va a indicare la grandezza del mob Size 3 non lo prende, per troppo piccolo probabilmente Mettiamo 6, nemmeno, vado a vedere qual è il più piccolo Odio profondo di quando non stacchi una parentesi e non ti prende i size Ok, ci siamo ragazzone Allora, se metto uno, mi fa, vediamo un po', size 2 Già lo crea più grande Size 3, vediamo un po' Vedete, ok, si generano Ma il più piccolo è quello, ma non è uno, size 0 Voglio vedere se metto size 0, che cosa mi fai? Esatto, dal size 0 Che è il più piccolo Ti tira fuori i vari size Che potrà essere, nel massimo, da quanto ho capito, size 4 Il più grande Che può spawnare Size 5 già inizia ad essere grandicello Ok, forse sì Il size 5 è il più grande Che può spawnare Però, ovviamente, finché abbiamo i comandi Possiamo fare quello che ci pare Possiamo andare a creare slime Che sono effettivamente un po' troppo cresciutelli Vediamo un po' Se volessimo creare uno di size 10, per esempio Beh, beh, già il size 10 inizia ad essere comunque Imponente Non tantissimo Beh, oddio È sicuramente abbastanza È molto più grande di noi Rispetto a uno slimmino piccolo Così Penso potrebbe far paura in survival Ma possiamo sicuramente far di meglio Magari mettere un size 20 E un po' Ok Cazzo Scusate Guardate, questo è grande Quella è abnorme Possiamo tirare su i size Ma quanto ci pare Size 50 Boom Eccolo qua Cioè, ci siamo giocati subito la carta da 50 Ed è gigantesco Ok Lo riusciamo a visualizzare addirittura male Se ha altri mob sopra A parte che si muove Madonna quanto si muove veloce Cioè, vedete Cioè, con un balzo ne fa veramente tantissimi Ma se io mi dovessi mettere Tipo in survival Cioè, lui inizierà ad attaccarmi malamente Ma guardate quanto si muove veloce Cioè, veramente velocissimo Oddio È qui, spero Oddio, ma con un colpo secondo me Può ha sciotta Game mod Game Mod 0 Vediamo un po' se mi viene a colpire Ma dov'è? Ma è velocissimo Cioè, vi giuro, già l'ho perso Ok, messo in peaceful Adesso evochiamo di nuovo il mob Dai, così 60 E poi ci mettiamo in game mod 0 Dove sei? Dove sei? Vieni qua Se, se, attaccami, se No, ma guarda Ma dai A parte Ecco, non mi caga E poi però Penso sconfiggio Ti prego, vieni qua Salta One shot Madonna Ok, vabbè Senza armatura È facile Ma io voglio esagerare con gli slime Perché secondo me Possiamo creare slime Che sono veramente allucinanti Non so qual è il massimo 70 Bim Ok, forse troppo alto Che poi da 70 Non so quanto te ne tira fuori Ma non scala di uno Magari si divide proprio a metà Ecco, questo è lo slime da 70 70 per 70 Molto molto più grande Rispetto a quello che si è diviso Ma non so quanto sia effettivamente quella distanza Solo che sono veramente tanto veloci Cioè, si, si Viaggiano Cioè, con un balzo fanno tipo davvero 20-30 blocchi E sta lì un po' dietro Proviamo con un size che può essere 100 Eccolo qua Bim Cioè, un balzo e lui già scompare Però Ma perché scompare? Sì, sei troppo veloci, cazzo Bim E poi con la Ovviamente con l'altezza muoiono Perché il punto Cioè, loro pensano che Stiano partendo veramente da lontanissimo E quindi si E quindi cadono malamente Ma guarda te Te è veramente comunque allucinante sta roba Pem E eccolo qua Eccolo qua Eccolo, eccolo, eccolo Size 100 Bestiale Allora, size 100 significa che è alto 100 No, non è alto 100 sto stronzo Perché ecco, ho messo al posto della tilde al 3 In modo tale da far rivedere E scompare dopo pochissimo È un po' un size 150 Pem Eh, oh cazzo Pum Guardate quanto è grosso Guardate quanto è gigante Cioè, è grande quanto un cazzo di villaggio Aspettate Cioè, esageriamo Sai, tipo 200 Dai, vediamo un po' che succede Pem Oh mio Dio, oh mio Dio St'apparte sta laggando malamente Sto laggando davvero Ma Minecraft non ce la fa Cioè, capisce Non ci sta capendo niente È preso fuoco lo slime E è scomparso Ha fatto un salto Sarà andato a 100 blocchi di distanza da qui Allora, per vedere il più possibile Ho messo il size a 32 chunk di distanza Quindi per tentare di vedere meglio i vari mob Adesso si stanno caricando tutti i vari chunk Così se magari lui spawna Ok, l'ho spawnato Siamo all'interno dello slime praticamente Da quanto è veloce E lagga talmente tanto che non riesco A stargli dietro E appena se ne va Cazzo no, è veramente improbabile Cioè, è troppo alto Tentiamo di alzarci ancora un po' E spawnarlo Magari lui riuscirà Sì, ok No Dove cazzo è? Ma di spawna Siamo troppo lontani Ok, sicuramente qua possiamo Spawnarlo Però davvero Vederlo è pressoché impossibile Perché Cioè, rimani veramente incasinato Possiamo creare Provare a crearlo senza intelligenza artificiale In modo tale che lui non si sposti Ma comunque creare un mob così grande È difficoltoso Cioè, è Madonna E poi ti lagga il gioco Quindi Non so minimamente se ce la faremo Eh, io voglio vedere fino a quanto posso crearlo 400 Buoh Uno slime largo 400 blocchi Ah, cazzo E Minecraft sta crescendo No, ce l'ha fatta, ok Però tipo Sto andando a 0 fps, credo Non risponde Minecraft Sta laggando Cioè Non ce la fa Non riesce a capire che cazzo stia succedendo Guarda è una cosa stranissima Ecco qua, ok No, una cosa stranissima Era capitata che Se era aggiornato OBS Ma non Minecraft Questo qua Cioè Sullo schermo di OBS Vedeva una cosa Di qua un'altra Assurdo Veramente assurdo Ma boh Non so che cosa sta succedendo Quanti fps Andiamo a 60 fps Lui capisce che sta andando a 60 fps Davvero? Fortuna Zero, ok Laggata a zero Si è di nuovo stabilizzato Dopo la botta estrema Si è stabilizzato Voglio provare ad andare in un mondo normale Per vedere che succede Ok Siamo in un mondo su normale E Vediamo un po' Ok Slash Summon Slime Tilda 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 Attack Size Due punti Cent Duecento Vai vediamo un po' Quanto è gra Ti scompare l'acqua Da notare Ma già A 200 Minecraft Inizia ad avere seri problemi Perché Ma riesco a crearlo senza No no Non ce la fa Non lo regge Troppi catt Troppe cose Voglio provare a vederlo A crearlo senza intelligenza artificiale Io non capisco Io non capisco dove cavolo vada Ah no C'è 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 Ah si è diviso Già vedete Perché Ah lui muore Probabilmente non riesce Ma pensa un po' Ah comunque anche questi Sono grandini Ah sti slime Sono leggermente grandini Sono tipo giganterrimi Le voglio farli Non scherzi Slime Mi caghi? Slime Slime Mi cagate? Almeno uno di voi Che si gira verso di me Con sta facce Slime Grazie Guardatemi Un sorriso per la stampa Grazie Bim No leggermente grande Leggermente grande Ma leggermente E dai però Beh credo che la nostra Ricerca possa rendersi qua Per il semplice fatto Che io potrei spawnare Un mob veramente grande Ma Quando poi lui cade Muore Deve respawnare Altri mob Non finiamo più Mi crasha minecraft Quindi non posso spingermi Oltre il size 400 So che si Comunque che si vedrà Si possa vedere Posso provare A spawnare Un mob Di dimensioni allucinanti Però Oddio diventa problematico L'unica e l'ultima cosa Che voglio fare Voglio provare Con Senza intelligenza artificiale Farlo spawnare Per vedere Se effettivamente si muove E se non si muove Beh cavolo Creiamo lo slime Più grande del mondo Allora Per funzionare Funziona il no A e Ok 15 Cioè vedete Ho spawnato sto slime Ma è fermo Non si muove Ok possiamo spawnare Lo slime Fottutamente grande Non cadi Rimani proprio in bilico Fermo Te muovi Bello Stiamo in un mondo Super piatto Ok We are ready To go Speriamo bene Che non succeda Il casino più totale Slash Summon No Volete Minusco Summon Slime Tilda 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 Chioccio Ci abbiamo Size Due punti 200 Dai No E I I Credo sia Oddio non mi ricordo raga Porca miseria Ok penso sia così Vediamo Aspetta devo dare due punti Uno Però facciamolo 20 Per verificare il Il comando Eh infatti Non te lo sommona Perché è I A Neanche Perché sei stronzo Perché non me lo fai Vuoi un punto e virgola Che cazzo dici Veramente Nope Una virgola sarà Non sto capendo perché non me lo fa Ok perché avevo messo il punto e virgola invece che il punto dei due punti Ok a questo punto che cosa dobbiamo fare Beh ci allontaniamo Mettiamo la game mod da zero Poi la met Sì la Scusate mettiamo la difficoltà zero Mettiamo uno E spawniamo sta roba da 200 Poi vediamo un po' che succede Allora Difficoltà Zero Poi Facciamo di nuovo Difficoltà Easy Evitiamo che spawnino il mob Li facciamo spawnare noi Size 200 Vediamo se viene fuori qualcosa di Abnorme È venuto fuori il mob Mostruoso Non te lo visualizza correttamente Minecraft Vedete Appena lo visualizzi Inizia a laggare Poi quando non lo visualizza più Smette di laggare Ma papi è incredibile Va bene ragazzuoli Penso che per questo video Possa tranquillamente essere tutto Io vi ringrazio tantissimo per la visione Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se avete fatto Di condividere il video su facebook E poi più una persona Fatevi sapere cosa ne pensate Di questi mob giganti E noi siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi